Giovanotto, per contesia, ristabiliamo i principi dell'ordine. Lei, innanzitutto, chi è? Mi sono Luciano e scuola e scuola. O frate, Lucia e Margherita. Non stavano a farmi da no? E sono tornato stasera in licenza. A lì sta morto, a lì sta morto. Non è lì? No, non è lì. Perché faccio i pezzi dell'ultimo due. A te, a me, a cuoccio, a cuoccio. Pigli la spada e tira mano, forza. Ma te, se non la ghiaccia non ci può fare. Pigli la spada e tira mano. Non ci sta la spada qua. Ah, caro, pigli la spada. A te. Ma io non faccio male. Pigli la spada e tira mano. E' proprio. A gioventica l'onore di mia Cianelma Margherita. Ciao, gabbia, mi ruga. Lo stai a fare, sono tra. Ma ti chiamo adesso, Bru. A chi è, Bru? Non è capito, stai spriti. A che è? Non è capito, stai spriti. A che è? A che è? Facile farlo. A che è? A che è? ahhh un moto oh